Buonasera a tutti e benvenuti a questo altro appuntamento di Controluce speciale, elezioni amministrative. Ci siamo perché si voterà domenica e lunedì prossimi. Ci occupiamo ancora una volta del Comune di Teramo con tre candidati alla carica di consigliere comunale. Vi presento subito gli ospiti che sono qui con me a partire da Alessio De Giglio della lista Amo Te in appoggio al candidato sindaco del centrodestra e delle liste civiche Carlo Antonetti. Buonasera De Giglio. Allora poi abbiamo Rosalba Di Marcello della lista civica Teramo sul serio in appoggio alla candidata sindaca Maria Cristina Marroni. Buonasera e benvenuta. Buonasera. E infine abbiamo ospite Alberto Melarangelo della lista del partito democratico in appoggio al candidato sindaco del centrosinistra e delle liste civiche il sindaco uscente Gian Guido D'Alberto. Buonasera Melarangelo. Buonasera, buonasera, grazie. Allora andiamo a cominciare con la prima sollecitazione. Comincia a rispondere Alessio De Giglio. Intanto una presentazione del candidato, la domanda è semplice questa volta, ma sono tutte semplici, la presentazione del candidato consigliere e i motivi della sua candidatura. De Giglio. Alessio De Giglio insegnante, candidato per la lista civica Amo Te, la lista civica di Carlo Antonetti, candidato per riportare Teramo in serie A, cercare di realmente cambiare questa città, farla diventare quella che storicamente deve essere, cioè un capologo di provincia e porre a compimento tutta una serie di cose che purtroppo non sono state realizzate in questi anni. Io sono rientrato dopo essere stato un po' fuori per lavoro e ho trovato una città in cui purtroppo, uso un termine forte, devastata. Vivo il centro storico, abito lì, lì ci sono gli affetti, ci sono gli amici e parto da quella cartolina che poi cartolina non è e che presenta Teramo come una totale incompiuta. Un centro storico purtroppo non messo a sistema, con una serie di situazioni che vanno dal manto stradale, di edifici storici al nostro patrimonio storico chiuso, non attrattivo, con evidentemente seri problemi per il commercio e per i residenti, peraltro residenti che ahimè stanno anche sparendo dal centro. Quindi l'idea con Carlo, che è candidato peraltro appoggiato fin dall'inizio, io qui rappresento anche azione, è quella di portare realmente a compimento una visione strategica di questa città, fargli riprendere quello che è il ruolo naturale di volano per l'economia non soltanto cittadina ma dell'intera provincia. Ho visto che è ancora un po' di tempo, vogliamo ricordare, lei faceva riferimento ad azione, qual è la composizione politica delle liste che appoggiano Carlo Antonetti? Allora, il partito di azione è confluito nella civica, ha dato modo di costruire la civica del candidato sindaco, poi c'è la lista civica futuro in e poi ci sono le sigle del centro-destra, la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia insieme all'Udc e noi moderati. Benissimo, grazie ad Alessio De Giglio. Passiamo a Rosalba Di Marcello, la stessa sollecitazione, quindi una presentazione della candidata. In questo caso è perché si candida al ruolo di consigliere comunale a terra. Ok, allora io mi chiamo Di Marcello Rosalba, sono un'insegnante di scuola primaria e ho accolto con grande gioia la possibilità di candidarmi con Maria Cristina Marroni, perché Maria Cristina è innanzitutto una donna forte, è una donna molto preparata e competente, ma soprattutto è una donna libera, libera dai poteri consortili. Quindi diciamo che questo ci aiuta a pensare che lei potrebbe veramente rappresentare la vera novità per Teramo, ma soprattutto ridare grande valore, il valore positivo alla parola politica. La politica oggi purtroppo è, questo termine è decaduto, perché comunque quando pensiamo alla politica pensiamo a qualcosa di legato al potere e alla corruzione. Anzi, più di una volta quando si tratta di dover partecipare a qualche evento, organizzare qualche evento, si dice no, però la politica non ci deve entrare. E questa è una cosa bruttissima, perché? Perché comunque dobbiamo ritornare a dare positività e nobiltà a questa parola. Come Aristotele ci ha insegnato, no? E quindi la politica deve soddisfare tre obiettivi fondamentali. Innanzitutto il benessere reale, concreto e quindi materiale. Poi deve far fiorire lo spirito. E infine il raggiungimento dell'eudaumonia, praticamente la felicità intesa come scopo fondamentale della vita di ogni persona. Senta, ancora una cinquantina di secondi. La composizione politica delle liste civiche che appoggiano Maria Cristina Marò. Sì, allora io sono nella lista civica Teramo sul Serrio. Poi abbiamo Teramo protagonista e poi abbiamo azione politica. Quindi sono tre liste. E non ci sono riferimenti politici precisi? No, no, no. Noi siamo liberi. Praticamente cerchiamo di rappresentare una novità, perché abbiamo due blocchi che comunque abbiamo visto chi è governato prima, chi è governato dopo e quindi vogliamo rappresentare la novità e metterci in gioco per il benessere della nostra città. Grazie. E adesso chiude il giro di questa prima sollecitazione Alberto Melarangelo del Partito Democratico in appoggio a Gian Guido D'Alberto. Chi è Alberto Melarangelo? Fa parte dell'amministrazione uscente, presidente del Consiglio Comunale, però la scheda la dobbiamo fare ugualmente. Alberto Melarangelo, perché si ricandida in questo caso? Prego. Sì, sono capolista del Partito Democratico, la lista del Partito Democratico. Sono docente, uno storico dell'arte, professore delle scuole superiori, insegno al liceo artistico e sono insomma teramano da tante generazioni come tutti sanno e quindi credo di conoscere la città, i suoi cittadini, i suoi problemi del territorio, il territorio in maniera approfondita, ancora di più in questi anni di governo in cui ho svolto un ruolo, penso insomma in maniera la più equilibrata possibile rispetto anche a quello che ho visto quando sono stato, questo ci tengo a dire, consigliere di opposizione. Io ho svolto vari mandati all'opposizione, sempre dalla stessa parte, sempre a sinistra e ne sono orgoglioso perché la coerenza è un valore nella politica, così come fare politica anche nella propria città deve essere fatto muovendosi da alti ideali, da valori e non solamente negli ultimi giorni o nei mesi delle campagne elettorali dove si dice tutto il contrario di tutto. Parla l'esperienza, parla la storia personale di ognuno di noi. Sono stato tanti anni all'opposizione insieme all'attuale sindaco e altri amministratori attuali di questo governo di questi 5 anni e come dice il nostro sindaco Gian Guido, in realtà sono stati 3 anni, perché 2 anni siamo stati e tutti lo sanno e tutti quanti lo siamo stati rinchiusi dentro casa per la tragedia del Covid, ma nelle consigliature precedenti abbiamo fatto l'opposizione e abbiamo visto una città aggredita, impoverita da amministratori che hanno pensato in particolare alle proprie prospettive personali e di potere. Poi se ne parlava della città, tant'è che abbiamo ereditato una città da chi molti di questi si ricandidano di nuovo, che è stata addetta del commissario prefettizio, perché poi la città è stata lasciata a un commissario prefettizio e hanno raccolto le firme per cadere. Il commissario prefettizio, un prefetto, ha detto che non ha mai trovato una situazione così critica, l'ho trovata solamente a Gioia Tauro, quindi io penso che questo sia un punto determinante da cui partire per dirci e dire poi tutto quello di cui vogliamo parlare. Grazie. Allora, abbiamo esaurito la prima domanda, le vostre prime risposte e andiamo alla seconda sollecitazione, questa volta comincerà a rispondere Rosalba Di Marcello di Termo Sul Serio in appoggio alla candidata sindaco Maria Cristina Marroni. Facciamo una foto di Teramo attuale, così come la vede, come la vede Rosalba Di Marcello e ovviamente la coalizione che sostiene Maria Cristina Marroni e un giudizio sull'operato dell'amministrazione d'Alperto. Prego. Allora, la città di Teramo è una città purtroppo spenta, dove c'è poco spazio per le esigenze delle famiglie, dei giovani, degli anziani, delle persone fragili. L'amministrazione attuale ha peccato di poco decisionismo, quindi sappiamo che abbiamo perso tanti cittadini, più di 3.000 anni e mezzo, e diciamo che tutto si dice, ma le nascite sono poche. La nascita di un bambino è una benedizione, ma dietro la nascita di un bimbo comunque ci sono delle coppie che devono essere messe nelle condizioni di poter procreare. Adesso, diciamo, per esempio, creare delle situazioni in cui degli affitti, diciamo, buoni per le famiglie, quindi creare anche degli asili nido che siano gratuiti per le giovani coppie, quindi per i bambini. Dare la possibilità di poter crescere dei figli in una città dove i giovani e soprattutto gli adolescenti, che sono, che hanno un'energia grandissima, non vanno vagando per strada o magari ciondolando non sapendo cosa devono fare, ma creare degli spazi per i giovani, dove i giovani possano essere messi in grado di esprimere i propri talenti e poi soprattutto cercare di tutelare delle fasce più fragili, da partire dai ragazzini a finire poi agli anziani. Quindi persone sono i fragili creare anche per loro delle possibilità per potersi esprimere e potersi realizzare. Quindi, senta, ancora del tempo, che giudizio dà sull'operato dell'amministrazione d'Alberto? Allora, diciamo che ci sono state tante parole, però poi c'è stato poco decisionismo. Alle parole non sono seguiti i fatti. Diciamo, quello che Maria Cristina e tutti noi vogliamo fare è prendere in mano la situazione con una valida progettazione, una progettazione calibrata che sia in grado di poter rispondere alle varie esigenze e richieste di tutte le fasce di età e di tutti i cittadini. Grazie. Allora, stessa domanda per Alberto Melarangio del Partito Democratico in appoggio a Gian Guido d'Alberto, la cartolina di Teramo, che foto vediamo di Teramo e il giudizio sull'amministrazione d'Alberto? Sì, bisogna essere seri quando parliamo di pubblica amministrazione e di stato dell'arte. Qual è la situazione di partenza? Luglio 2018, 8 mesi di commissariamento, dopo 14 anni di governo in interrotto di centrodestra, c'era già stato un precedente commissariamento, abbiamo trovato 17 milioni di euro di vuoto in bilancio di cassa, una città che nei cassetti non aveva nessuna programmazione, nessuna progettazione per quanto riguarda i siti della ricostruzione pubblica, ma anche progetti riguardanti tante questioni in sospeso della nostra città, per quanto riguarda la progettazione sul sismo, alcune cose erano state individuate, alcuni finanziamenti, ma per esempio alcuni no, pensiamo al museo archeologico e poi la dichiarazione del commissario che dopo 8 mesi dice ho trovato una situazione mai vista, vista solamente a Gioia Tauro. Abbiamo quindi ricominciato e abbiamo individuato 240 milioni di euro di finanziamenti che sono stati messi subito in programmazione, perché poi la pubblica amministrazione è una cosa seria, le opere pubbliche non sono, come diceva la Totò, fiaschi che si abbottano, richiedono tempi, valutazioni, ci sono le leggi, ci sono gli uffici, ci sono i livelli gerarchici anche della pubblica amministrazione. Abbiamo lavorato, ripeto, tre anni, perché in due anni con i dipendenti di smart working e i cantieri fermi era impossibile più di tanto procedere. Abbiamo avuto 100 dipendenti andati in pensione con quota 100, in maniera seria anche con il Covid abbiamo fatto concorsi che hanno rimpiazzato con 80 personale nuovo, 80 nuovi dipendenti, giovani, motivati, quindi abbiamo messo in moto una macchina forte che adesso porterà a compimento tutti questi finanziamenti ottenuti che stanno andando in parte in progettazione, quindi sono stati programmate e in gran parte in gara d'appalto entro l'anno. E poi voglio dire a chi sostiene che è una città spenta, come ha detto anche un onorevole che è venuto qui pensando di venire chissà dove nel profondo meridione del mondo, città spenta. Si offendono le centinaia di cittadini, di associazioni culturali, di operatori culturali che quotidianamente garantiscono a questa città attività sportive, ricreative, ludiche, quindi prima di dire sparare frasi a caso, io ci rifletterei perché offendiamo i nostri concittadini. Grazie Alberto Melarangelo. Chiude il giro per questa domanda sulla cartolina di termo, la foto di termo attuale e il giudizio sull'amministrazione di Alberto, il candidato di Amote, lista Amote, Alessio De Giglio, in appoggio a Carlo Antonetti. Prego. Che dire, io penso che ci sia un tempo della narrazione e un tempo della realtà. Io adesso sento il tempo della narrazione che non corrisponde, però purtroppo a me è il tempo della realtà. Ho qui i dati dell'ufficio di ricostruzione, mi fermo soltanto ai dati della scuola, degli edifici scolastici, 33 milioni di euro, l'unica scuola portata a compimento la scuola di Villaripa, il restante nessuna fase progettuale. Ripeto, un tempo della narrazione e un tempo della realtà. Io penso che questa amministrazione viva il tempo della narrazione, il tempo dei selfie, il tempo degli annunci, hanno tagliato dei nastri di poche, pochissime cose che erano state programmate, progettate, fondi individuati dalle precedenti amministrazioni. Ci vuole capacità nell'amministrare? Beh sì, se ci vuole capacità nell'amministrare ci dovrebbero per esempio dire gli amministratori dell'attuale giunta come è possibile che non più tardi di due giorni fa il prefetto abbia diffidato questa amministrazione perché non è arrivato a rendicontazione nulla, forse troppo impegnati in campagna elettorale. Che tipo di città si vuole offrire ai cittadini? Che tipo di città si vuole offrire ai giovani? Il Calice, la Peristreet, gli eventi spettacolari che durano un giorno a Piazza Martiri e poi magari non frequentare il centro, il polmone economico di questa città e vedere che le attività imprenditoriali chiudono. Ci vuole serietà, ci vuole rispetto e non più tardi sempre di qualche giorno fa un noto esponente della coalizione che è a sostegno di Dalberto, peraltro se non vado errato ha ricoperto anche in precedenza nei suoi 30 anni di attività politica l'incarico di assessore al commercio, ha offeso i commercianti terramani dicendo che se i negozi sono vuoti evidentemente non hanno grandi capacità attrattive o capacità imprenditoriali. Penso che il tempo della narrazione debba finire, che si debba dare un giudizio di questa amministrazione, il giudizio purtroppo è negativo, molto negativo. Grazie Alessio De Giglio. Andiamo alla terza domanda di questo primo blocco, poi ci fermeremo per la pubblicità e parliamo di un grande argomento della campagna elettorale, non solo perché era già iniziato da tempo tutta l'analisi di dove realizzare il nuovo ospedale, a chi spettasse poi la decisione ultima, se la ASL, la Regione o al Consiglio Comunale di Termo. E allora, questo è l'argomento Alberto Melarangelo, dove fare l'ospedale e a chi spetta la decisione ultima? Prego. Senza dubbio si è parlato in questi anni, secondo me in maniera anche strumentale o poco fondata dal punto di vista della documentazione delle informazioni su questo argomento dell'ospedale, cercando di scaricare sull'amministrazione comunale delle scelte che in primis spettano a chi finanzia e paga gli ospedali, che sicuramente non è il Comune di Teramo. La Regione Abruzzo, a seguito di un piano e di una programmazione sanitaria, deve dire che cosa vuole fare sulla sanità del territorio terramano e della sua provincia. Quindi noi ci aspettiamo importanti investimenti sul nostro territorio per migliorare l'offerta sanitaria, non solo per costruire edifici, ma per avere macchinari innovativi utili al miglioramento di una sanità che per troppe cose non funziona. Quindi io voglio il contenuto migliorato, voglio un ospedale di secondo livello, voglio sapere dalla Regione Abruzzo governata dalla destra se Teramo ha diritto un ospedale di secondo livello, che investimenti, che personale e poi voglio parlare di tutto il resto. Ovviamente noi, i civici, che i civici stanno nella giunta della coalizione di D'Alberto, dove su sette liste ci sono solo due partiti e cinque liste vere, non come in altri casi dove ci sono solo singoli di partito, siamo perché l'ospedale nel sito di Virna Mosca, storico sito per la cura e la sanità in questo territorio, venga potenziato, venga ampliato, venga migliorato e quindi se devono essere spese delle risorse pubbliche per migliorare la sanità, innanzitutto vadano lì. Se poi la Regione ci dice invece deve essere costruito un altro ospedale da un'altra parte, perché quel sito non va bene, il Comune di Teramo farà la sua parte, ma innanzitutto dirà potenziamo quella straordinaria realtà, il presidio sanitario, che negli anni, in passato, è stato un punto di riferimento in tutta Italia e ancora adesso, a differenza di quelli che dicono che Teramo è spenta, vengono ogni giorno centinaia e centinaia di pazienti, a curarsi a Teramo, tant'è che non si trova una camera d'albergo e una casa in affitto, questa è la verità, al di là di tante cose che sento dire a vuoto. Grazie Alberto Melarangelo, stessa domanda, stessa sollecitazione per Alessio De Giglio di Amotè in appoggio a Carlo Antonetti, dove fare l'ospedale dunque e a chi spetta la decisione? Che il contenuto sia importantissimo al di là del contenitore, questo penso sia ovvio, e va fatto un plauso a tutti gli operatori della sanità, perché sono evidentemente un fiore all'occhiello della nostra città. Finalmente, dopo quattro anni, qualche giorno fa, si scopre che il sindaco ha annunciato la volontà che l'ospedale rimanga a Villa Mosca. Io non penso, lo abbiamo detto più volte della lista civica, ma anche il candidato sindaco Antonetti, che debbano decidere altri, debbono decidere i cittadini Teramo e deciderà il sindaco di Teramo insieme ai cittadini. L'amministrazione d'Alberto non ha mai preso sul tema dell'ospedale una posizione netta. In quattro anni c'è stato un assordante silenzio, c'è stato invece un grande fermento tra i cittadini terramani che hanno raccolto firme, hanno cercato l'incontro con l'amministrazione e invece, ripeto, c'è stato soltanto il non decidere, il non pronunciarsi. Io sono convinto che si può parlare dell'ospedale quando si avranno tutte le carte, quando ci saranno progetti fattibili, credibili, sia per quanto riguarda Villa Mosca, sia per quanto riguarda una nuova costruzione. Rimane il fatto che è importantissimo non impoverire la città, è molto importante mantenere un presidio di primissimo livello nella città, quindi questo è il vademecum che spinge noi della lista civica e anche il candidato sindaco Antonetti, ma l'ultima parola spetta all'amministrazione, spetta ai cittadini, non bisogna nascondersi dietro il dito delle politiche regionali o altro. Il capoluogo di provincia decide per il capoluogo di provincia. Quindi, visto che ci sono ancora pochi secondi, se dove farlo e se farlo andrà ridiscusso con i cittadini terramani? Andrà ridiscusso con i cittadini terramani, sarà la politica cittadina a decidere l'argomento, uno degli argomenti più importanti della vita della città, che è appunto la cura, la sanità e l'ospedale. Grazie, grazie De Giglio. Allora, chiude questa terza domanda con la sua risposta. Rosalba Di Marcello, di Teramo sul serio, in appoggio a Maria Cristina Marroni, nella carica di sindaco. Il nuovo ospedale di Teramo, dove farlo e chi deve decidere? Allora, per Maria Cristina Marroni e quindi per tutti noi che l'appoggiamo, il presidio sanitario, senza ombra di dubbio, deve rimanere a Villa Mosca. Per tanti motivi, perché comunque ci sono dei progetti, che hanno analizzato i vari territori. Quindi il presidio a Villa Mosca è senz'altro una zona salubre, una zona che non sta sotto il livello del fiume, dove non ci sono reperti archeologici, anche da salvaguardare. Quindi ci sono già in essere studi di progettazione che prevedono il presidio sanitario all'ampliamento a Villa Mosca. Scusi, ampliamento o nuovo? Nuovo, naturalmente nuovo, e che va ad ampliare l'offerta che già c'è. Ora, questo naturalmente anche in termini economici porterebbe un grande beneficio, perché anche in termini di esproprio, in termini economici, espropriare il terreno, il territorio di Villa Mosca è senz'altro più vantaggioso rispetto all'altro sito. Quindi, diciamo, le risorse economiche potrebbero essere impiegate proprio al potenziamento di questo presidio. Benissimo. Grazie. Allora, adesso ci fermiamo, diamo la linea alla pubblicità e poi torneremo con altre sollecitazioni per sentire risposte nei tre candidati alla carica di consigliere comunale a Teramo. Pubblicità, linea, la regia, tra poco. Eccoci che rientriamo in diretta. La terza sollecitazione è quella della vocazione della città di Teramo. Se ne ha una, se ne ha più di una e se va potenziata quell'una o quelle tante vocazioni che ha Teramo attraverso idee particolari o addirittura attraverso opere pubbliche da realizzare. Comincia Alessio De Giglio di Amo Te in appoggio al candidato sindaco Carlo Antonetti. Teramo ha una vocazione, deve avere una vocazione sicuramente turistica. Teramo ha un patrimonio culturale di primissimo livello, è un patrimonio culturale, però purtroppo hai mai chiuso. Io non penso che l'attrazione, il cuore pulsante attrattivo della città sia il centro storico oggi come è messo. Non penso che sia educativo mettere un cancello a sbarrare una piazza come è successo a Piazza Sant'Anna o tenere la domus romana chiusa, perché se quella è la cartolina evidentemente non è un viatico eccellente. Mettere a regime poi tutta la città, nel senso che è impensabile che chi viva a San Nicolò debba dire andiamo a Teramo o che chi viva a Caprafico debba dire andiamo a Teramo, Teramo e Teramo. Quindi mettere in rete le frazioni, mettere in rete i quartieri, fare in modo che alcuni quartieri non siano quartieri dormitorio, ripopolare il centro storico e il centro storico lo risipopola non facendo feste e basta, non con nani e ballerine, fatemi passare questa espressione, perché il centro storico lo si deve vivere sette giorni su sette, non nella fascia temporale di un'estate o di un fine settimana, perché tutto ciò nuoce al commercio e ripeto attività imprenditoriali in questa città stanno chiudendo, attività storiche e nuoce anche ai proprietari delle case del centro storico, c'è un depreciamento totale, noi abbiamo perso residenti, non siamo più attrattivi, non siamo più capologo di provincia, abbiamo un sindaco che quale ruolo riveste come volano, come figura della provincia? Io penso, pensiamo a quello che è successo a Laruzzo non più tardi di qualche giorno fa, una posizione, quella del candidato sindaco, che ha permesso un 34 a 0, cioè non allineati a nessun altro sindaco di questa provincia, io ritengo che il sindaco di un capoluogo debba essere capofila di una filiera che renda veramente Teramo città capoluogo. Grazie De Giglio. Allora stessa domanda per Rosalba Di Marcello di Teramo sul Serio in appoggio a Maria Cristina Marroni. Che vocazione a Teramo segna di più e se ci vogliono delle opere per esaltare queste vocazioni? Certo, allora le vocazioni sono tante, la principale però è quella di supportare le famiglie. È un momento complesso, usciamo fuori dalla pandemia, le famiglie hanno tante necessità, ma soprattutto le famiglie di Teramo, genitori, sono genitori attenti ai propri figli, ma soprattutto anche alle persone fragili. Quindi cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna creare, come dicevo prima, delle situazioni che permettano alle famiglie di stare bene, di alleggerirsi, anche in termini economici, come per esempio gli asili nidi gratuiti. Poi creare un polo museale che, partendo dalla casa del mutilato, passando per il liceo classico, arriva poi a Regina Margherita. All'interno del Regina Margherita creare uno spazio giovani, che sia in grado di accogliere persone fragili, ma soprattutto i ragazzi, i giovani, e dare a loro un'alternativa alla cultura di strada. Quindi dei ragazzi dove possono, esempio, esprimersi in una sala di registrazione. Sappiamo, tutti gli adolescenti, soprattutto diciamo 14-15 anni, amano tantissimo suonare. Tutti, bene o male, imparano a suonare uno strumento e poi vogliono creare una band. E ovviamente non c'è una sala di registrazione, dove potersi esprimere, sognare e magari realizzare i propri talenti. Ma questo lo si può fare con il teatro, con tutti i tipi di arte. E soprattutto permettere ai ragazzi di tirare fuori i loro talenti, ma soprattutto il tipo di intelligenza. Perché sappiamo che ognuno di noi ha nove tipi di intelligenza, come ci insegna Gardner, che passano attraverso canali cognitivi diversi. Quindi la scuola ne riesce a valutare due, tre. Ma se riusciamo a creare uno spazio dove i giovani, che hanno un tipo di intelligenza, che passa per canali cognitivi diversi, possano poi esprimersi, questo sarebbe il massimo. Quindi, e poi soprattutto, ecco adesso stringo, quindi oltre a potenziare il centro, dare importanza anche alle frazioni. Perché le frazioni sono proprio degradate, vivono in uno stato di degrado, a partire dal verde, le strade, e quindi devono essere comunque riabilitate e riportate all'attenzione dell'amministrazione comunale. Grazie, grazie a Rosalba Di Marcello. La stessa domanda ad Alberto Melarangelo. Qual è la vocazione di Teramo e se questa vocazione va, come dire, incrementata, va esaltata attraverso nuove opere da realizzare? Senza dubbio ci sono più vocazioni per una città che, dal punto di vista geografico, è centrale in un assetto che va da est-ovest al centro appunto del paese, tra Roma e l'asse Adriatico. In parte questo ruolo lo sta esercitando grazie ad alcune vocazioni virtuose e eccellenti che sono messe in pratica. Penso alla città delle eccellenze universitari. Abbiamo il polo agrobio-veterinario che sempre più dovrà fare sinergia con l'eccellenza mondiale. Teramo il conosciuto del mondo per l'istituto profilattico, con la nuova sede, col potenziamento delle facoltà, diventa e può diventare un polo di primo piano in questa situazione mondiale e italiana per quanto riguarda la ricerca, lo abbiamo visto con il Covid, ricordiamocelo, le analisi fatte con il profilattico, e può aiutare l'agricoltura a ricominciare. Questa è sicuramente una grande vocazione collegata alla vocazione formativa. Teramo è il capoluogo di provincia, lo è e lo è anche per il sistema dell'istruzione superiore, ci sono tutte le scuole, liceo artistico, scuole importantissime, abbiamo festeggiato i 50 anni liceo artistico che per decenni è stato solo in questo territorio. La vocazione commerciale, la vocazione commerciale deve essere, partendo dalle attività imprenditoriali attuali, deve essere sostenuta, potenziata, migliorando tante cose che sicuramente devono essere riviste, integrando l'offerta del centro storico con l'offerta che c'è nel resto del territorio, penso a quella turistica della prospettiva alberghiera in rapporto con la costa terramana che è la principale attrazione turistica della regione Abruzzo e quindi questa è un'altra importante vocazione. La vocazione culturale è una delle tante vocazioni sulla quale abbiamo lavorato in questi anni. Che se ne dica e che sento dire? Battaglie che personalmente ho fatto all'opposizione in questi decenni. Il teatro romano, per cui il centrodestra era contrario, proprio ci sono i fatti che lo raccontano. Il castello della Monica, io ho fatto decine di interrogazioni per far restituire il castello della Monica alla città, sono una realtà di questi cinque anni di governo che sono un attrattore. Io per la prima volta in questi anni ho visto persone da Ascoli, da Roma, da Perugia, venire a visitare. Solo i terramani parlano male di Teramo, perché chiunque viene da fuori la considera una bellissima città. Grazie a Melarangelo per aver chiuso questo giro su questa sollecitazione. Adesso io metto un po' di argomenti che hanno, come dire, corroborato la campagna elettorale e non solo, un po' come per il nuovo ospedale. Magari si può dare anche un giudizio su come era affrontata l'attuale amministrazione o come vorrebbero affrontare questi temi, macro temi, come li vorrà affrontare il sindaco che verrà. Parcheggi, l'ATEM che è diventata pubblica, la ricostruzione e poi gli stadi, perché c'è la questione dello stadio Bonolis, la questione relativa al vecchio stadio comunale, i teatri, il teatro romano a cui faceva adesso riferimento Melarangelo, il teatro comunale, c'è un progetto di ristrutturazione e anche il rapporto con le frazioni. Allora, questa volta comincia Rosalba Di Marcello. Tanti argomenti, vediamo quali affrontare. Prego. Allora, sì, parliamo di turismo. Ecco, mi voglio riagganciare a questa cosa. Ecco, abbiamo parlato di turismo, di portare movimento nella nostra città e nelle nostre frazioni. Però per fare questo ci vuole una progettazione programmata. Non basta fare un evento che magari si è bellissimo, ci piace e mette in moto tutti i vari servizi legati a quell'evento, a quel momento. Bisogna creare una serie di eventi che permettano alle persone di venire, di sostare, di appassionarsi, di vedere tutto ciò che di bello si può fare nella nostra città. E poi, oltre a questo, diciamo, anche alleggerire le attività economiche. Per esempio, nel progetto di Maria Cristina ci sono proprio un annullamento delle tasse per i primi cinque anni, quindi di un'attività nascente. Quindi questo permetterebbe di, diciamo, poter far proliferare tante belle iniziative nella nostra città. Allora, degli argomenti che avevo segnalato io, parcheggi, temi, ricostruzione, gli stadi, la gestione degli stadi, il teatro, la posizione anche della sua lista? Allora... Anche sul nuovo teatro, comunque sulla ristrutturazione del teatro comunale di Tè. Sì, diciamo, la posizione della nostra lista è una posizione che comunque mira allo sviluppo della cultura, allo sviluppo della cultura e dei musei e soprattutto a cercare di riportare, diciamo, di elevare la nostra città all'attenzione nazionale. E quindi, diciamo, guardando ciò che di bello c'è in Italia e soprattutto anche in Europa. Quindi, diciamo, quello che noi vogliamo fare è sicuramente andare incontro al cittadino, snellire la macchina burocratica, cercare proprio di realizzare opere concrete che siano in grado di poter rispondere alle esigenze dei cittadini e delle frazioni. Grazie, grazie. Alberto Melarangio, allora, tanti argomenti. Forse sono troppi, però almeno alcuni di questi. Parcheggi, temi, ricostruzioni, gli stadi, teatri e il rapporto con le frazioni. Sì, in due minuti è complicato. Sì, è complicato. Qualcuno. Parto da un'affermazione. Poi però c'è l'appello elettorale, qualcosa possiamo mettere lì. L'affermazione è questa, che in questi cinque anni di consigliatura, ma tre operativi veri, perché per due anni abbiamo dovuto intervenire a sostenere le persone con il Covid, abbiamo messo in cantiere, in programmazione, in progettazione e in esecuzione tutto quello che poi è il programma, anche elettorale, ma reale. Parliamo di teatro. Per decenni, io mi ricordo, Teramo non ha un teatro, quindi l'attività culturale è imperniata sul teatro, teatro comunale. Abbiamo individuato 11 milioni di euro di finanziamenti per trasformare l'attuale teatro, non essere più un teatro al piano di sopra, ma un teatro... e tutti lo hanno apprezzato questo progetto, studio milanese, che prevede un ridotto, quindi anche sale più piccole, ma comunque capienti importanti e una grande aula per le attività appunto drammaturgiche e teatrali. E questo va con il PNRR in inizio lavori a fine dicembre entro il 2026 verrà realizzato. Il teatro romano, un grande sogno, anche lì battaglie, decenni all'opposizione, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ottenuto integralmente tutte le risorse e va in appalto adesso, gara europea. Scavo archeologico, che quindi sarà uno dei pochi cantieri archeologici d'Europa nel centro della città che recupererà una cave e poi la rifunzionalizzazione. Partono i lavori anche lì in autunno. Questi sono due. Nel centro storico avremo quindi un teatro romano e un teatro moderno nel centro della città che, aiutatemi a dire, sarà determinante per lo sviluppo della città. Il mercato coperto. Il mercato coperto tutti saranno andati a Ravenna, anche a Pescara, a Arezzo. I vecchi mercati coperti sono trasformati in area food e area mercatale. Sono quasi partiti i lavori per trasformare quello spazio in Piazza Verde in un'area che attualmente è degradata, ma è in corso un intervento importante di rigenerazione urbana che tra un paio d'anni vedrà trasformato quel luogo con anche il conservatorio Braga a fianco, per cui abbiamo dovuto recuperare altre risorse che andrà anch'esso in appalto a breve, che diventerà il conservatorio che torna a essere nella sede storica della città appena verranno terminati i lavori. Quindi questo è un vero e proprio programma di risanamento di una città. Benissimo. E ripeto, le opere pubbliche hanno i tempi di legge, a meno che non arriva qualcuno con delle bacchette mangiate e oltre alle parole ci fa vedere qualcosa. Grazie a me l'Arangelo. Allora, siamo ad Alessio De Giglio su questo argomento. Sono tanti. Però cerchiamo, se ce la fa, può rispondere a tutti, altrimenti qualcosa va nell'appello elettorale. Parcheggi, temi, ricostruzione, stadi, teatri e frazioni. È un'impresa quasi titanica, è in due minuti e quaranta, però. Ci proviamo, ci proviamo col dire innanzitutto che sentirsi dire che i terramani parlano lo mare di Teramo. Forse i terramani vivono la città. Magari i turisti vengono e stanno quell'istante. Insomma, i terramani vivono ogni giorno la città e siamo sempre lì sulla solfa dell'annuncite. Qui non c'è un progetto partito. I progetti che sono partiti non li ha in nessun modo installati questa amministrazione. Torno a ripetere, su 88 milioni di euro di ricostruzione, sono stati spesi 650 mila euro. È assurdo. Dopo tre anni, dopo quattro anni, dopo cinque anni di governo, si tagliano i nastri. Non si dice ora si può. Perché è come se si nascondesse in qualche modo il fatto che si è governati questa città per cinque anni. Come può essere attrattiva questa città? Ha parlato prima il candidato consigliere della piazza del mercato. Io vorrei invitare i cittadini, anche delle frazioni, a vivere quella piazza. È un quartiere, una piazza bombardata. Bisogna stare attenti. Si cade nelle buche. C'è una mappatura del centro storico della città che non corrisponde purtroppo alla realtà. Io non ho visto questo sindaco incatenarsi per portare avanti o far inaugurare tutto quel popò di roba che è l'ex ospedale psichiatrico. Quello sarebbe realmente un volano per il centro storico. Un luogo di incontro, un luogo attrattivo che potrebbe far ripartire l'economia cittadina. I parcheggi. Se si sfora di 10 secondi, si pagano multe di 40 euro. Non è possibile andare al centro storico e non avere degli stalli bianchi che possano consentire il parcheggio gratuito e quindi il ripopolamento del centro e necessariamente le attività commerciali che ridecollano. C'è una narrazione che non corrisponde a realtà. Non si vive la città, evidentemente. Sul teatro comunale, anche qui, è annuncio. Siamo arrivati in campagna elettorale con gli annunci, con gli asfalti elettorali per cui le frazioni sono completamente abbandonate. È annuncio. Grazie ad Alessio De Giglio. Ci avviamo alla conclusione perché abbiamo l'ultima sollecitazione, l'appello elettorale. Se lo vorrete potrete mettere in questo ultimo vostro intervento anche qualche altro punto dei programmi dei vostri candidati sindaci. Comincia Alberto Melaraggio. Per rispondere a... Capisco la propaganda, ovviamente. Parliamo di... non dell'amico De Giglio che non ha mai amministrato, ma molti suoi compagni hanno amministrato e hanno purtroppo non creato spesso le condizioni di quel degrado di cui parla. Tutti quelle risorse sono risorse stanziate che sono in cantiere e i ritardi purtroppo sono dovute alla burocrazia, ad altri uffici, non al comune. Io ricordo quando si parla di scuole, il terremoto dell'Aquila al 2009. All'Aquila le scuole ancora non sono state nemmeno abbozzate nella ricostruzione, stanno tutti ancora nei map. Noi le due scuole che sono state terremotate, San Vini e San Giuseppe, stanno a poche centinaia di metri, ospitate in altre scuole, per essere chiari. Quindi se c'è un ritardo è perché c'è attenzione nel lavoro d'ufficio tecnico e burocratico. Ripeto, le opere pubbliche non sono fiaschi che si abbottano. Il nostro appello al voto è votare Gian Guido d'Alberto perché è una nuova generazione di amministratori di questa città che in gran parte esce da anni di opposizione a chi ha veramente portato al degrado terramo rispetto ad un passato ben più glorioso. Si candida a continuare un lavoro di rigenerazione della città urbano e non solo urbano ma anche umano perché questa città può rinascere e rifiorire esclusivamente con una nuova classe dirigente che è quella di questi anni, appassionata alla città, che si dedica senza altri interessi, che non si dedica al potere personale e politico, cioè all'uso delle cariche pubbliche comunali per fare carriere personali, che non ha persone che dall'esterno calcolando progetti e prospettive appunto di potere, dice adesso c'è la partita del Comune, c'è l'altra partita dell'ente di qua e dell'ente di là e poi si vedrà. Noi abbiamo preso un impegno con i cittadini di rappresentarli, quindi siamo a disposizione dalla mattina alla sera e con trasparenza perché tutti riconoscono a noi amministratori di questi anni una grande amministrazione, dobbiamo completare un lavoro sì di cambiamento perché il cambiamento è iniziato nel luglio 2018 e deve necessariamente continuare con i prossimi cinque anni di consigliatura dei civici guidati da Gian Guido D'Alberto. Grazie ad Alberto Melarangelo. L'appello elettorale, se vuole altri punti del programma di Carlo Antonetti, da parte di Alessio De Giglio, diamo te che appunto sostiene il candidato sindaco Antonetti. Prego. Insomma il mantra è sempre lo stesso, il potere, la città da non riconsegnare al potere. Insomma per quattro anni la giunta d'Alberto ha governato questa città. L'ha governata in un certo modo sotto gli occhi di tutti, si parla di competenza, si parla di trasparenza. L'ente anticorruzione ha sottolineato più volte come questa per esempio amministrazione ha dato gli appalti. Insomma non si può tutto buttare in opposizione. L'amministrazione d'Alberto ha governato la città, non ha fatto opposizione, ha governato per quattro anni e io ritengo che sotto gli occhi dei cittadini terramani c'è tutto quello che non è stato fatto. Si è presentata come cambiamento, questo cambiamento non è stato realizzato. Io invece ritengo che con Carlo Antonetti tutta la coalizione ha scritto e ha messo nero su bianco un programma, un programma credibile, un programma misurabile nel tempo, idee, progetti che possono essere cantierizzati, messi in opera, soprattutto con reale trasparenza, coinvolgendo i cittadini su grandi temi, non chiudendosi nel palazzo, per portare Teramo a ciò che Teramo spetta, cioè l'essere realmente capoluogo e volano di provincia, essere realmente una città attrattiva e andare in competizione, una costruttiva competizione con le altre province della regione Abruzzo. Grazie ad Alessio De Giglio. Adesso l'appello elettorale, se vuole altri punti del programma, ce li dice Rosalba Di Marcello di Teramo sul Sero in appoggio alla candidata sindaca Maria Cristina Marroni. Prego. Ok, allora il nostro appello elettorale è quello che comunque noi rappresentiamo con Maria Cristina Marroni la vera novità. Siamo persone libere, non dobbiamo rispondere a nessuno, non abbiamo lacci né bavagli, possiamo rappresentare realmente la novità. Mettetici alla prova, perché comunque alla mia destra, alla mia sinistra avete due blocchi che avete visto, chi prima, chi dopo. Noi abbiamo un grande entusiasmo, vogliamo operare, vogliamo far funzionare la macchina amministrativa del comune, abbiamo un grande desiderio di progettare, ma progettare cose reali che aiutino la famiglia. Ricordate, gli asili need gratuiti da 0 a 3 anni in aiuto alle famiglie e poi comunque l'ospedale, l'ospedale comunque, un ospedale che nascerà a Villa Mosca. Noi lo proponiamo fortemente per tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato prima. E una grande attenzione alle frazioni e poi al verde e a tutto ciò che può rendere la nostra città bella. E non dimentichiamo anche la riduzione della Tari con l'annullamento per i primi cinque anni di attività alle nuove attività, della nostra città. Quindi dateci la possibilità di metterci alla prova. Lo faremo con grande entusiasmo, ma soprattutto con grande libertà e a favore di tutti i cittadini. Grazie, grazie anche a Rosalba Di Marcello. Finisce qui questo controluce speciale elezioni amministrative. Vi ringrazio Alessio De Giglio, Rosalba Di Marcello e Alberto Melarangelo. Grazie, grazie per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie a tutti voi, arrivederci. Buona serata. Buona serata.